SISALPOKER.IT SISALPOKER.IT Un altro giro? Real poker, real fun. Eh, ti dico che siamo corti. Siamo corti ma ci siamo. Abbiamo messo la bandierina per una volta, quindi siamo contenti. Eh, pronto, sì, ce la faccio, ci proviamo. Sono un po' i due mostri là, che sai, quindi ci proviamo lo stesso. Ciao, Turi. Eh, siamo appena arrivati. Abbiamo una buona posizione. Va bene qua! menta Men dirti abbiamo 3 partiti bene, quindi lo guardi! Ciao! Questo pòcher ti raccomando eh P tightening Un altro giro? Real poker, real fun